La cune in geografia, concorrenti non proprio solari e anche un suggerimento. È quello che è successo nella puntata di ieri, martedì 11 dicembre, dell'eredità. In particolare, nel momento del gioco scalata doppia, ha commettere una gheffe pocale la concorrente Lisa. Pensando che la domanda fosse rivolta a lei, la donna ha risposto al posto del suo avversario Simone rivelandogli, di conseguenza, la soluzione. Ripresa immediatamente dal conduttore Flavio Insinna, Simone ha capito solo successivamente il danno fatto, fortunatamente, però, la risposta non sembra essere arrivata alle orecchie del concorrente che ha sfrecato secondi preziosi per una soluzione già data.